È impensabile che l'attività della Giunta possa avere riflessi positivi o negativi sulle elezioni amministrative. Il dato amministrativo è un dato poco politico, ma è un dato che si basa sulla bontà delle liste, sulla bontà del candidato sindaco, quindi non c'è nessun tipo di riferimento. Io però vorrei rispondere al Partito Democratico dicendo che non solo non c'è nessun tipo di riferimento, ma quando attacca il Presidente Marsilio dicendo che fa più il Presidente del Partito e meno il Presidente della Regione, vorrei ricordare al Partito Democratico cosa è accaduto in questi primi due anni e mezzo, i risultati che l'Aggiunta Marsilio ha ottenuto pensando ai contributi alle famiglie meno ambienti, pensando alle imprese dove abbiamo stanziato oltre 105 milioni di euro. Ma vorrei affrontare una volta per tutte la gestione della pandemia dove l'Abruzzo è stato preso come punto di riferimento sia dal generale Figliuolo che dal governo Draghi. E quindi vorrei riportare un po' sulla terra il Partito Democratico dicendo che non è il caso di cantare vittoria perché da un lato alcuni comuni al di sopra dei 15 mila abitanti sono stati vinti dal Partito Democratico o da liste civiche come ad esempio nel comune di Roseto dove il candidato sindaco del Partito Democratico non è arrivato nemmeno al ballottaggio.